quando siamo qua di più le mettiamo a queste e cazzo mi serve un tronco ma no no ma non l'ho neanche sfiorato che stavolta cazzarola ma tutte le volte però nello zaino c'è dentro una cuffietta di plastica metti prima la cuffietta di plastica e poi lo zaino bagnato ma figaro non è possibile tutte le volte è il legno da appoggiare adesso mi cade anche la motosega e ti cade dentro anche quello ma le cose vanno messe in sicurezza oh bene così dopo il cimiteri non c'è un po' come c'erano i denti di qui, ora vieni a scusare se non mi ha detto, non mi ha detto se 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 non mi ha detto ah